Buongiorno Adriano Filesi, siamo qui al Gisti Piacenza e allo stand della Grove incontriamo il fondatore e timoniere della FIMI, l'altro Giuseppe Milazzo, ricordiamolo, perché è un giorno speciale oggi? Speciale perché da pochi giorni la FIMI ha compiuto 40 anni di attività e questa è la dimostrazione della nostra attività. Adriano, quali sono i servizi e i prodotti che offre al settore del sollevamento la FIMI? Siamo Autogru, abbiamo le piattaforme aeree per piattaforme 6 momenti, della GRG e della Multitel, oltre all'autocarri Volvo. Perfetto, grazie Adriano, buona fiera. Grazie a voi. Grazie a voi.